Un accordo tra Regione Toscana e Rondine per la pace e una cittadinanza globale, un'intesa siglata Palazzo Strozzi Secrati che mira a consolidare l'impegno della Regione e l'esperienza internazionale di Rondine nata oltre 25 anni fa nell'omonimo Borgo Aretino che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e per la diffusione del proprio metodo per la trasformazione creativa dei conflitti, il metodo Rondine. Ormai si sprecano gli esempi di presidenti del Consiglio, di ministri, di figure straordinarie come la Segre che a Rondine sono di casa e devo dire che mi fa molto piacere che con questo protocollo noi sviluppiamo delle azioni che possano portare a dare un senso ancora più istituzionale alla formazione e alla pace che Rondine può generare. Penso alle occasioni di incontro fra giovani palestinesi e israeliani, penso alle occasioni per distendere quelle che sono le condizioni in Europa per superare l'occupazione russa dell'Ucraina, penso a quello che attraverso Rondine la vocazione alla pace e alla cultura della Toscana può offrire. Veramente una realtà che è nata come esperienza intorno alla Chiesa di Arezzo ma che attraverso una figura straordinaria come i Baccari sta diventando un riferimento a livello mondiale. Questo riconoscimento dà a Rondine e soprattutto ai giovani che si impegnano a Rondine in luoghi di grande coraggio, grande slancio e futuro perché insieme con la regione condividiamo gli stessi valori e quindi vogliamo creare un impatto culturale, formativo, educativo. C'è bisogno di un nuovo paradigma per educare la pace. La guerra non è alle porte solo in senso chilometrico, è dentro di noi perché il mondo globale la fa emergere dentro di noi i sentimenti della guerra. Non possiamo difenderci facendo finta che questo non succeda, dobbiamo agire in un modo rinnovato e ancora più forte.